Il giocatore atteso a inizio settimana per le visite mediche. Come riportato da Sky, l'accordo definitivo tra il Milan e la società giocatore, raggiunto oggi sulla base di 19 milioni più 4 milioni di bonus. Vieni con me a seguire le notizie più importanti pubblicate su Milan Official. Ciao tifosi rossoneri! È bello averti qui sul canale ufficiale delle notizie Acquistare Milan. Pieno di novità per te! Non perdere tempo e iscriviti al canale per non perderti le novità del Milan. Il giocatore è una delle priorità dell'allenatore. In corso lo scambio di documenti con il classe 98 atteso ad inizio settimana a Milano per le visite mediche. La ricerca di una squadra competitiva per lottare per i titoli. Questo l'augurio della dirigenza rossonera per la stagione. Assumere giocatori importanti da tutti i settori e rafforzare ulteriormente la rosa. Il nuovo acquisto dovrebbe arrivare in Italia lunedì per sottoporsi alle visite mediche e firmare per il Milan. Il giocatore arriva in rosso-nero con lo status di titolare. E tu tifoso, cosa ti aspetti dal giocatore? Reinders arriva per migliorare il centrocampo del Milan o è un altro per giocarsi un posto in questo nuovo Milan che si sta rafforzando per la stagione in corso. Lascia il tuo mi piace e seguimi per non perderti nessuna novità.